Nell'era delle fake news contro i vaccini, l'azienda ospedaliero universitaria di Sassare ha ricevuto un premio nazionale. La campagna di comunicazione per la vaccinazione anti-influenzale, avviata lo scorso anno dall'azienda sassarese per sensibilizzare medici, infermieri, operatori sociosanitari alla vaccinazione in ospedale, è stata riconosciuta come il miglior progetto di comunicazione vaccinale in Italia. Un riconoscimento che arriva nell'ambito del contest perché sì, organizzato dalla Sanofi Pasteur, il premio è stato assegnato nei giorni scorsi a Roma. In Lizza c'erano 10 finalisti che hanno partecipato insieme a 30 giovani creativi e comunicatori. I vincitori sono stati scelti tra 54 progetti, 31 per la categoria ASL e distretti sociosanitari e 23 per la categoria Università, società scientifiche, ospedali, associazioni e fondazioni, in cui si inseriva anche il progetto dell'azienda ospedaliero universitaria. L'idea e le scelte adottate sono state vincenti, afferma il direttore generale Nicolo Orru. Il personale sanitario rappresenta infatti una popolazione particolarmente esposta al rischio di sviluppare la patologia durante la stagione influenzale e di trasmetterla anche ai pazienti. A ritirare la targa premio è stato il direttore della struttura di igiene e controllo dell'infezione ospedaliero della UO di Sassari, Paolo Castiglia, che guida anche il team di Vaccinarsi in Sardegna.org. L'idea di allargare il progetto a tutta la popolazione e non solo agli operatori sanitari è diritto dal fatto che oggi noi abbiamo a disposizione molti vaccini e siamo soli di fare campagne specifiche rivolte alle singole vaccinazioni. Quello che il progetto Vaccinarsi ha avuto l'idea di lanciare invece è una campagna globale sulle vaccinazioni. Per la campagna di sensibilizzazione è stato scelto un testimonial d'eccellenza e la Dynamo Basket. Circa 2.000 dipendenti della UO che si sono vaccinati. L'attività vaccinale del personale è stata promossa attraverso un materiale divulgativo accompagnato dall'hashtag Io Mi Vaccino che ha diffuso lo slogan La Dynamo e la UO di Sassari insieme per le vaccinazioni. La campagna ha visto la stretta collaborazione della Direzione Medica di Presidio, del Medico Competente, del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Esperimentali e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Sassari.